Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari, nostro ospite e lo ringraziamo per aver raccolto il nostro invito a collegarsi, il Presidente Pasquale Palumbo, da questa vicenda delle bollette idriche, cosa sta avvenendo fuori dalla gestione che si è conclusa alla nuova gestione di AICA? Quali sono le incongruenze che avete notato? La gestione commissariale di Gergenti Acqua ha cessato la propria operatività il 31 luglio l'ultimo scorso. Cosa succede? Che dal 1 di agosto è entrata nei pieni poteri AICA il nuovo gestore del servizio idrico integrato per i comuni della provincia di Grigento. In questo passaggio, oltre ad avere una serie di disfunzioni, per esempio abbiamo avuto in molti comuni, siamo nuovamente ripiombati nella crisi idrica e quindi abbiamo iniziato, specie nei condomini, ad utilizzare nuovamente le autobotti, ma la cosa più seria e per certi versi grave è la gestione della fatturazione. Cosa avviene? Avviene che AICA ha iniziato a fatturare e quindi mandare le bollette per il pagamento del canone idrico dal primo di agosto, riportando nelle fatture una lettura per loro rilevata al primo di agosto. Era più opportuno invece indicare una lettura rilevata o una lettura stimata, in poche parole. Se un condominio aveva, portandolo come esempio, pagato le fatture di acqua con una lettura rilevata alle 15 giugno, riportando ai metri cubi 1000, e oggi AICA va a fare le letture di questo condatore e riporta e legge una lettura di 1500 metri cubi, AICA andrà a fatturare appunto la differenza da 1500 a 1000, quindi 500 metri cubi, andando ad ingassare un consumo che non appartiene a AICA ma appartiene alla vecchia gestione, oggi fallita. Una situazione che si verifica in questa fase di transizione tra il nuovo gestore e il nuovo gestore. Secondo voi in che modo si doveva ovviare o si potrebbe ancora ovviare evidentemente? Era naturale che con un impegno, anche coinvolgendo gli utenti, di effettuare le letture nei primi giorni di agosto, chiudere il rapporto con il precedente gestore a lettura certa e rilevata e partire con una nuova, con queste letture, con il nuovo gestore AICA. Oggi questo non è più possibile farlo, oggi secondo noi potrebbe essere risolto solo con un sistema matematico. Andare a fare appunto le letture come sta facendo il nuovo gestore, andare a fare la differenza con l'ultima lettura del precedente gestore, andare a fare un'interpolazione giornaliera e quindi lasciare il pagamento fino al 31 di luglio alla gestione ormai alla curatela fallimentare ai gergenti acqua e pagare da 1 agosto ad AICA. Lei fa notare che i gergenti acqua e i curatori fallimentari potrebbero tornare a bussare alla porta e chiedere il pagamento di spettanze. Ma un giudice delegato al fallimento e così i curatori hanno naturalmente l'obbligo di legge di cercare di soddisfare tutti i creditori, ma nello stesso tempo incassare tutti i creditori a loro favore. E lei cosa pensa di questa vicenda del deposito cauzionale? Che il gergenti acqua non è in grado di restituire, in buono sostanza, chi volesse la restituzione del deposito cauzionale dovrebbe iscriversi nel portale dei creditori e visto che si tratta di una società di liquidazione. Quindi soldi da quel punto di vista credo che non ne vedranno più. Però adesso AICA, correttamente, credo legittimamente, chiede un altro deposito cauzionale. La nostra preoccupazione, sa qual è, che il piccolo utente, mia mamma che ha quasi 80 anni, si va a mettere a richiedere la restituzione della cauzione e nemmeno ci pensano. Quindi probabilmente l'utente si ritroverà a pagare questo deposito cauzionale due volte. Ora dico, perché grandi gestori, per esempio, di energia elettrica come Enel, che di sicuro gestiva milioni di utenze, ti restituisce con la bolletta a chiusura a conguaglio il tuo deposito cauzionale in modo che tu poi lo vai a pagare al nuovo gestore? Perché invece un gestore che gestisce un numero di utenze molto inferiore a quello che gestiva Enel non riesce a fare una cosa del genere?